Ciao a tutti, nel video di oggi andremo a vedere un po' dei miei ultimi acquisti creativi, quindi non prendevo delle cosine su Aliexpress da un po' di tempo e ho fatto dei nuovi acquisti e mi andava a dimostrarveli. Iniziamo pure dall'unico colore che ho comprato e questo colore ad alcol, rose gold, non so se rende, eccolo qui. Lo voglio provare, non avevo un colore alcol di questo rosa, vediamo se riuscirà con l'effetto pretedish, quindi costava veramente poco. Come al solito vi lascio tutti i link di questi acquisti nell'info box, così se vi interessa qualcosa potete cercarla e eventualmente ordinarla. Questo è il primo acquisto. Poi ho comprato questo stampino ad acchiappasogni. La cosa brutta è che per uno stampino usciva soltanto questa coppia di piume, ma vedete i buchi per l'acchiappasogni sono 4, quindi ci sono 4 piume e quindi ho comprato due stampini identici per poter fare direttamente con un'unica colata tutto l'acchiappasogni, anche perché non riesco mai a replicare lo stesso identico colore due volte, quindi ho acquistato due stampini uguali e quindi ho due rosoni e quattro foglie. Eccoli qui. Sono carini, me li aspettavo un po' più piccoli, invece sono abbastanza grandi, vedete? Quasi quanto il palmo di una mia mano, però sembra molto carino. Lo proveremo insieme e vediamo come esce. Quindi poi ho preso questi. Poi ho comprato una cosa forse inutile, non lo so. Volevo prendere questi occhialini da chimico, così quando collo la resina ho anche gli occhi protetti. Ora di mascherine ne ho a bizzeffe, quindi non ho un problema di mascherine. I guanti li utilizzo sempre io quando collo la resina e inizierò ad utilizzare anche gli occhiali. Eccoli qui. Comunque la resina si mette in pratica una reazione chimica, quindi potrebbero esserci anche dei gas che evaporano e quindi preferisco proteggermi bene. Poi ho comprato questo stampino che secondo me è molto carino. Sono le lucine di Natale, alla Stranger Things anche, vedete? E li vendevano già così a coppie per poterci fare degli orecchini. E sono molto carini. Di sicuro colorerò di dorato o comunque di metallico le basi e poi farò degli effettini. Nella prossima colata ve li mostrerò. Eccoli qui. Poi sempre ad orecchini ho comprato questa forma a triangolo. Era molto versatile perché qui dentro volendoci puoi mettere un fiore, qualcosa e fare degli effettini carini. Quindi anche questo lo proveremo e vediamo cosa ne uscirà. Poi uno stampo che non c'entra niente col periodo. Quindi siamo in estate e ho comprato uno stampo natalizio. Mi sono portato avanti perché l'ultima volta a Natale li ho ordinati e mi sono arrivati dopo Natale. Quindi avevo ordinato questo stampino che è arrivato prestissimo. È molto carino quindi non so se lo riuscite a vedere per bene. Ci sono varie forme e sembrano tutte forme molto carine. Hanno tutti i vari dettagli che si possono colare con un colore diverso e quindi mi piace. Vediamo cosa ne uscirà. Questo per Natale può essere una bella idea per fare dei segnaposto tutti diversi, delle decorazioni per l'albero e niente. Li proveremo un po' più in là e vediamo cosa ne esce. Poi ho comprato questo stampo che mi aspettavo molto più piccolo. Io come al solito le dimensioni delle cose che compro non le non le leggo. Mi piacevano le forme. Vedete sono tutti dolcetti con la forma di mini e topolino. C'è questo cono gelato tipo con le orecchie a forma di oreo di topolino. Quest'altro cono gelato con mini. Una donuts con topolino. Una donuts penso sempre topolino. È molto carino però è davvero davvero grande. Più che ciondoli questi potrebbero essere dei portachiavi. Ci vorrà molta resina per colarli. Non so l'effetto che ne uscirà. Sembrano forme molto carine. Sarebbero state più belline della metà della dimensione attuale. Però vabbè è andata così. Non avevo pagato tanto. Mi sa un 2 euro ho pagato questo stampo. E niente lo proveremo. Poi sempre a orecchini c'è ci sono queste forme che non so se riuscite a vedere. Hanno questo effetto cristallo e mi piaceva. Può essere bello anche realizzarci qualche bambolina o comunque qualche cosa sopra. Non so. Vedete? Ha questo effetto cristallo lucido. Queste secondo me con un pigmento rendono parecchio. Comunque le proveremo anche questo insieme e vediamo cosa ne uscirà. Poi anche queste a tema natale ma mi piacevano e mi porto avanti. Sono queste caramelline. Quei bastoncini rossi e bianchi natalizi. Anche queste secondo me sono state pensate come orecchini. Vedete? Qua si può colare il rosso e poi fare una colata di bianco o viceversa. E sembrano molto semplici da usare. Secondo me il risultato che ne uscirà sarà carino. Aspettate che le chiudo se no si fanno pieni di polvere. Ok. Poi sempre su Aliexpress ho trovato queste nuvolette che ho visto in qualche video di alcune creative. Mi piacevano. Secondo me queste sono molto versatili per l'effetto Petredish. Aspetta che provo ad aprirvele. Così ve le faccio vedere. Perché vedete sono molto molto bombate. Quindi qui l'effetto Petredish viene molto bello. E sono anche carine per inglobarci qualcosa all'interno. Non lo so. Una bambolina. Una farfalla. Comunque qualcosa da inglobare. È molto carino. E c'era questa prima dimensione che è la dimensione piccola. E poi ho preso la dimensione media. c'era anche la dimensione grande ma ci vuole troppa resina per colarle. E non sono creazioni che di solito realizzo. Quindi ho preso questi due stampini a nuvoletta. poi ho trovato due stampini molto belli che sono questo qui. Vedete ci sono tre forme a cuore e tre forme a stella e scusate sei forme a cuore e tre forme a stella. con questo effetto caramella gommosa. E quindi sembrano opache. Le andremo a colare per vedere cosa ne esce. Queste formine sono ideali per dei ciondolini ad esempio per braccialini o per orecchini. E niente. Li proverò ed è uno stampo che mi piace molto. Anche di questo vi lascio il link nella descrizione. Se il video vi è piaciuto e questi stampi vi piacciono mettete un like al video e iscrivetevi al canale. Così ve ne porto anche altri di video acquisti. Infine l'ultimo stampo acquistato da Aliexpress è questo stampone. Anche questo molto bello e molto versatile. Vedete ci sono diverse forme di cuore, di luna e di stelle. Alcuni sono molto grandi quindi possono essere usati anche per inglobarci degli stickers. Sia questo, questo che anche questa luna bella ciotta. E poi ce ne sono altre più piccoline. E' uno stampo che mi piaceva e niente. L'ho acquistato e lo andremo a colare insieme. Sicuramente queste grandi li proverò prima con gli stickers e su questi altri magari andrò a fare degli effettini diversi. Comunque è molto bello. E' uno stampo grande e costa davvero poco. Quindi non so la resa. Sembra una buona gomma siliconica. Comunque nei video poi vedrete quanto mi durerà. E niente. Questi erano gli acquisti da Aliexpress. Poi ho acquistato delle cose da Tiger. Ve le faccio vedere. A un euro l'una. Sono queste perline colorate. Non so se avete visto. Ora vanno un sacco quelle collane o comunque quei portacellulari con tutte queste palline. Con delle fettine di cane di fimo. E niente. Quindi le ho comprate pensando di realizzare qualcosa su quella linea. Ho comprato due con questa fantasia. Ancora qua. E una con quest'altra. Vedete? E niente. Questi erano i miei acquisti. Grazie per aver visto il video. Mettete un like se vi è piaciuto. E al prossimo. Ciao!